Alitalia ha accettato la proroga solo per la tratta tra Alghero e Milano Linate e non per Roma. Ma per il collegamento con Fiumicino si prospetta un affidamento d'urgenza ed entrerebbe in gioco Blue Air. E' in programma questo pomeriggio la conferenza stampa dei vertici regionali e locali del PD per sancire la tregua con Mario Bruno che quest'oggi al rientro da Parigi dovrebbe ritirare le dimissioni. Si profila un appoggio esterno dei Dem. Come ogni sabato tutte le anticipazioni sportive del weekend in seconda categoria c'è il derby tra Audax e 1945 Alghero. L'amatori rugby in campo oggi alle 14.30 per il primo posto nella serie B nel TG spazio anche a calcio a 5 e basket. Bentrovati con l'informazione quotidiana di CatalanTV. Apriamo quest'edizione del nostro TG parlando di continuità territoriale perché secondo quanto riportato dall'ANSA i collegamenti aeri su Alghero saranno divisi in due. Alitalia volerà solo su Milano. L'ex compagnia di bandiera ha accettato la proroga solo per la tratta tra lo scalo Rivera del Corallo e Milano Linate e non quello da Eppel Roma. Una situazione che potrebbe aprire la strada a Bluer per operare sui voli tra Alghero e Fiumicino non attraverso accordi commerciali come inizialmente ipotizzato ma con un affidamento d'urgenza per massimo sette mesi. Quindi sino a giugno quando scadrà la proroga. La risposta di Alitalia è arrivata proprio in queste ore considerando che invece la situazione legata a Cagliari e Olbia era stata già risolta. Se dunque i voli per Milano sono in salvo per Roma Fiumicino bisogna trovare una soluzione la più percorribile. Sembra proprio l'affidamento d'urgenza da definire con il Ministero dei Trasporti e che deve ottenere il via libera europeo. Qui potrebbe entrare in gioco Bluer, la compagnia che si era giudicata il bando della nuova continuità su Alghero poi stoppato dalla Commissione europea. La compagnia italo-romena infatti opera già su Roma con voli che collegano la capitale con Torino, scalo di riferimento per le attuali tratte di Alghero. Bisogna però fare in fretta perché il 9 novembre è vicinissimo e nonostante l'Italia vende biglietti per Roma quest'ultima tratta rischia di rimanere scoperta. Per la politica, questo pomeriggio nella sede di Via Mazzini è in programma la conferenza stampa del Partito Democratico che vedrà la partecipazione dei segretari regionale, provinciale e cittadino oltre i consiglieri comunali al sindaco Mario Bruno. È atteso per quest'oggi infatti il ritiro delle dimissioni da parte di quest'ultimo dopo il documento unitario fermato dallo stesso PD con i partiti di maggioranza. Guardare oltre la rottura del 2014 e rilanciare l'azione politica e programmatica del centro-sinistra algherese e dell'amministrazione comunale. Sulla base di questo è stato sancito il patto che non dovrebbe comunque prevedere l'ingresso in maggioranza dei dem, piuttosto un appoggio esterno programmatico per gli ultimi 20 mesi di consigliatura. Dubi che comunque verranno sciolti questo pomeriggio nel corso della conferenza stampa. E domani mattina dalle 10.30 alle 13 in via Tarragona numero 2 fronte Piazza della Mercede è programmata la raccolta firme per l'iniziativa denominata Insularità in Costituzione. L'obiettivo della proposta avanzata dai reformatori sardi è quello di ottenere la condizione ineludibile di isola, che la isola venga riconosciuta e inserita nella nostra Costituzione, ma è così da assicurare azioni specifiche a favore della Sardegna, il cui sviluppo economico e sociale è evidentemente ostacolato da problemi geografici di natura oggettiva. Si punta a un referendum che abbia come obiettivo il riconoscimento dell'insularità, spiega Nicola Salvio, coordinatore dei riformatori di Alghero, e per farlo è necessario il sostegno di tutti. Piglieru si ostina a non rispondere alle interrogazioni di Forza Italia su Abanoa, che è allo sbando, mentre il management parla di un ente in salute. Il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde così commenta le mancate risposte del presidente della regione agli atti di sindacato ispettivo di Forza Italia e le dichiarazioni dell'amministratore unico del gestore unico del servizio idrico integrato, secondo il quale l'azienda va bene, i conti sono in ordine, abbiamo attivato il percorso per attivare il rating. Secondo l'ex sindaco di Alghero si tratta di ottimismo di facciata ostentato che cerca di nascondere una situazione finanziaria e gestionale complessivamente disastrosa. A giugno, ricorda Tedde, il Consiglio di Stato ha condannato Abanoa a versare all'antitrust una sanzione di 680 mila euro per pratiche commerciali scorrette, cioè minacce, slacci e pratiche versatoriche che in tutti questi anni Abanoa ha messo in atto nei confronti degli utenti sardi che pur di non perdere la fornitura d'acqua spesso pagavano e si pagavano i soprusi del gestore unico. Azioni a cavallo del codice penale per le quali Abanoa è stata condannata dal Consiglio di Stato a pagare 680 mila euro all'antitrust per pratiche commerciali pesantemente aggressive nei confronti dei cittadini sardi. Chi pagherà questa somma? Si chiede Tedde. Ovviamente i sardi. Il consigliere regionale di Forza Italia ritiene che Abanoa vive una situazione finanziaria e gestionale equivoca. Prima ottiene una iniezione di capitale per 190 milioni da parte dei soci di Abanoa e quindi dei sardi. Successivamente decide di emettere un prestito obbligazionario di 180 milioni per la cui collocazione spenderà per compensi fino a 1 milione e 170 mila euro. Ma non si comprende come una società che nell'ultimo bilancio approvato vanta crediti verso clienti per oltre 700 milioni di euro abbia necessità di chiedere un prestito in denaro i cui interessi saranno pagati dai cittadini sardi. Delle due l'una. O i 700 milioni di crediti non sono esigibili e quindi il bilancio è falso o il management di Abanoa sta prendendo una cantonata a Taccatede e poi Dulcis in fundo all'anticorruzione a metà ottobre ha dichiarato che Abanoa è fuori legge. Il consigliere regionale di Forza Italia ricorda poi il contenuto della delibera con la quale recentemente il presidente dell'ANAC, Cantone, ha censurato la gestione del servizio idrico integrato ritenendolo non in linea con il quadro normativo in materia di in-house providing. E sullo sfondo il presidente Pigliaro e la sua giunta tacciono non rispondono alle interrogazioni che abbiamo proposto per fare luce sui responsabili delle azioni vessatorie e sanzionate dal Consiglio di Stato e sull'equivoca situazione finanziaria e giuridica, denuncia Tedde. Oltre che per chiedere alla giunta di intraprendere iniziative che impediscano per il futuro l'attuazione di simili odiosi pratiche che violano i diritti più elementari dei sardi e per mettere ordine nei conti e nella struttura del gestore monopolista. Crediamo che i sardi abbiano la memoria lunga, chiude Tedde, e siamo convinti che la Corte dei Conti abbia antenne sufficientemente sensibili per intervenire su questo quadro equivoco. Oggi 4 novembre l'Italia celebra la giornata dell'Unità Nazionale delle Forze Armate. La giornata è stata istituita nel 1918 per commemorare la fine della Prima Guerra Mondiale per l'Italia il 4 novembre e la data dell'entrata in vigore dell'armistizio di Villa Giusti. Ad Alghero questa mattina alle 10 dal Palazzo Civico di Via Colombano è partito il corteo che ha reso omaggio con la deposizione delle corone dall'oro ai monumenti dedicati ai caduti civili e ai militari algheresi nel corso di conflitti mondiali come Piazza Portaterra, Scalottarantiello e Piazza Sventramento. Il corteo istituzionale è stato accompagnato dalla banda Dalerci e poi ha fatto rientro al Palazzo Civico dove è terminata la cerimonia. A rappresentare il Comune c'era l'assessore Raimondo Cacciotto. E adesso ci fermiamo per la pubblicità. A tra poco. E nonostante Alghero non sia entrata nella rete delle città creative dell'UNESCO era comunque presente con il sindaco Mario Bruno, l'assessore Raniero Selve e una rappresentanza di studenti del liceo artistico Costantino a Parigi nella sede mondiale dell'UNESCO. Alghero non ce l'ha fatta ad entrare nella rete delle città creative dell'UNESCO nel settore artigianato e arte popolare per la quale era candidata ma ha avuto comunque l'occasione di mostrare al mondo quanto di più bello e caro possiede a partire dal Corallo Rosso. Il sindaco Mario Bruno, l'assessore Raniero Selve e una rappresentanza di studenti del liceo artistico Costantino erano infatti presenti a Parigi nella sede mondiale dell'UNESCO in occasione del Creative Italy UNESCO. Lo stand della città di Alghero è stato il più apprezzato e visitato ha fatto sapere il sindaco con grande soddisfazione. Gli studenti e docenti del liceo artistico sotto la tenta guida di Tonino Serra hanno lavorato con grande impegno ed entusiasmo alla realizzazione di diverse installazioni sul tema del Corallo Rosso ad impreziosire lo stand e pezzi unici degli artigiani e dei laboratori del Corallo. Alghero ha ricevuto i complimenti dell'ambasciatrice italiana UNESCO nel 2019 sono certa che sarete città UNESCO ha detto Vincenza Lomonaco al sindaco Mario Bruno avete intrapreso un percorso virtuoso, intelligente e coraggioso verrò a trovarvi presto nella Rivera del Corallo. Il primo cittadino di Alghero nel corso del suo intervento ha esposto l'attenzione sul percorso strategico che è stato avviato ad Alghero nell'ottica del turismo tutto l'anno della città delle arti e della cultura con un brand indiscusso il Corallo Rosso che caratterizza l'immagine della città la sua laboriosità il suo rapporto con il mare e con l'artigianato artistico ha detto Mario Bruno nella sede UNESCO una parentesi gioiosa per il primo cittadino che oggi rientra ad Alghero per discutere del suo futuro Il comune di Alghero intervenga affinché in regione venga riconosciuto il diritto ad avere un contributo per l'acquisto di una parrucca nelle fasi durante e post trattamento chemioterapico e introduca nel bilancio comunale un contributo lo scrive in una nota l'ex assessore consigliere comunale Alberto Bamonti la consapevolezza di dover perdere i propri capelli provoca forti emozioni, stress, rabbia e depressione soprattutto nelle donne spiega Bamonti se per gli uomini si potrebbe azzardare nell'affermare che ciò non comporta particolari disagi psicologici perché il fenomeno della perdita di capelli è ampiamente diffuso ed è socialmente ben tollerato per le donne il discorso purtroppo è ben diverso la capigliatura ha sempre un significato particolarmente intenso tra le donne non solo dal punto di vista estetico ma anche socio psicologico la perdita dei capelli in una persona di genere femminile equivale a squadernare la propria situazione più intima a ogni persona che viene incontrata anche se perfettamente sconosciuta la consapevolezza di poter contare su un prodotto affidabile di alta qualità come la parrucca aiuta a ritrovare forza in se stessi e la volontà a reagire per tale ragione che la parrucca non deve essere considerata un accessorio estetico ma una vera e propria protesi sottolinea ancora Abamonti che chiede al sindaco e alla giunta di istituire qualora non sia presente una voce di spesa nei prossimi bilanci e nel frattempo stimoli nella regione affinché le asle regionali possano iniziare a derogare tale presidio molte regioni d'Italia d'altronde considerano la fornitura delle parrucche materiale protesico autorizzabile ai malati oncologici si potrebbe prevedere intanto un contributo minimo comunale di 200 euro fare in modo che la regione dia come ad esempio previsto in alcune realtà 300 euro conclude l'ex assessore e lunedì 6 novembre con inizio alle ore 16 presso la sede di Alghero dell'agenzia la ore Sardegna in via 20 settembre 7 si terrà un incontro riservato alla marineria di Alghero e del nord Sardegna in vista della prossima apertura della terza finestra temporale per la presentazione delle domande di finanziamento sulle misure a valere sul Fondo Europeo per gli affari marittimi e la pesca l'agenzia regionale la ore Sardegna in collaborazione con i flag Sardegna il servizio pesca e acquacultura dell'assessorato dell'agricoltura e riforma agropastorale fornirà informazioni relative ai bandi di attuazione delle misure per quanto riguarda il programma formativo Green e Blue Economy finanziato dal Fondo Sociale Europeo il raggruppamento composto da Isfora Pink a Pofila Aflag Nord Sardegna Smeralda Consulting e Isogea ha programmato attività di animazione e rilevazione del fabbisogno formativo per dotare il territorio di nuove professionalità destinate a creare opportunità nella filiera della pesca e dell'economia del mare attraverso la somministrazione di questionari così da poter realizzare interventi formativi utili la filiera della pesca e dell'acquacultura costituisce un sistema complesso e articolato di operatori che sempre più in futuro e nello scenario europeo dovrà fare incontri con cambiamenti e innovazioni diventa peraltro indispensabile cogliere sia le opportunità finanziarie disponibili che le occasioni di miglioramento professionale l'incontro è stato programmato grazie alla collaborazione dell'assessorato e le attività produttive del comune di Alghero partner del flag Nord Sardegna sono invitati dunque a partecipare i pescatori gli acquacoltori gli operatori della trasformazione del prodotto ittico e del commercio e tutti i potenziali beneficiari delle misure FEAMP cambiamo argomento ora perché è grande soddisfazione per due algheresi Guido Beltrami e Daniela Canu che partecipano alla fiera internazionale di floricoltura che si terrà in Olanda dall'8 al 10 novembre anche la Sardegna sarà presente all'importante fiera internazionale di floricoltura in programma dall'8 al 10 novembre in Olanda precisamente nella città di Weifazen all'annuale appuntamento esporranno le proprie creazioni anche Daniela Canu da 25 anni flower designer molto apprezzata e richiesta in Italia e all'estero e Guido Beltrami 35 anni con alle spalle numerose importante esperienze a livello internazionale tra i vari stand è presente anche quello Italia che ospiterà gli esportatori di fiori della Rivera Ligure ed è proprio qui che sono stati chiamati degli stili due algheresi che hanno già lavorato insieme per la realizzazione degli addobbi floreali nella Basilica di San Pietro non serve avere solo buon gusto ma occorre essere dei professionisti seri e preparati per essere scelti per questo appuntamento in Olanda nel quale gli esportatori di tutto il mondo fanno conoscere i propri prodotti ha spiegato Daniela Canu che ha già partecipato a questa fiera nello specifico i due algheresi dovranno allestire insieme ad altri due colleghi lo spazio che in questa fiera olandese vedrà il fiore italiano un'esperienza sicuramente importante per la mia attività ha commentato Guido Beltrami che mi permetterà di stare a contatto con esperti del settore e poter così ampliare il mio bagaglio lavorativo e artistico l'associazione culturale Tolos nata oltre 20 anni fa per promuovere la nascita del museo archeologico cittadino si occupa di approfondire e diffondere la storia e l'archeologia attraverso conferenze pubblicazioni visite guidate nei siti di maggior interesse in questo contesto organizza una serie di conferenze sui siti archeologici del territorio d'Alghiero e sulla Sardegna romana tenute dall'archeologo Alberto Gavini dottore di ricerca in storia antica e archeologia si svolgeranno quattro incontri aperti al pubblico il primo quest'oggi alle ore 17.30 nella sala mosaico del museo riguardante Turris e Libisoni sei cultisiaci sabato 11 invece convegno dall'edilizia pubblica quella funeraria il 25 dello stesso mese si parlerà del culto di Mitra tra Roma Ostia e la Sardinia e infine sabato 2 dicembre la romanizzazione delle aree interne i centri di Carales e Nora ci fermiamo ancora per la pubblicità tra poco e come ogni sabato ampio spazio allo sport cominciamo con il calcio in seconda categoria c'è il derby Audax 1945 Alghiero i fasti di un tempo sono lontani così come i derby tra Alghiero e Fertilia in seconda categoria c'è comunque una stra cittadina interessante in questa quinta giornata del Gironelle a Audax contro 1945 Alghiero una partita importante soprattutto per i ragazzi di Geppo Serra primo in classifica con Treseliches e Campanedda e decisi a proseguire il filotto di vittorie non ha troppe pretese per quest'anno la formazione giallorossa che dopo il brutto scivolone casalingo della settimana scorsa punta al riscatto si gioca domani pomeriggio alle 15 alla Catalli di Santa Maria La Palma alla stessa ora Villa Assunta va in scena il testa coda tra i padroni di casa del Treseliches e il fanalino Padria un solo punto conquistato dalla cenerentola del campionato con lo 0-0 sul campo del Florinas la squadra di Bardini invece ha fatto 4 su 4 e nell'ultimo mezzo è stata trascinata da Frau e Mulas turno di riposo infine per il Maristella che in settimana ha lanciato un nuovo appello al comune per la sistemazione del campo della Borgata ad oggi i Neroverdi infatti si allenano e giocano le gare di campionato nel campo in terra battuta di Maria Pia passando alla prima categoria terza partita in sette giorni per l'Olmedo che dopo le vittorie a Ozzieri contro la Frassati e in casa contro il Codronjano sfarà visita al Malaspina dietro di un solo punto la squadra di Marcomini invece ha quota 12 al terzo posto e insegue Tiesi e Pozzo Maggiore rispettivamente a 13 e 14 punti anche Sancis e i compagni vogliono dire la loro in un campionato estremamente equilibrato passiamo ora al calcio a 5 oggi in programma la terza giornata di campionato di Serie C2 regionale e l'Audax al Gherese ospiterà alle 18.30 al Palacurbia il Maroso 2006 dopo due sconfitte per 8 a 4 la squadra di Antonio Baldino cerca la prima vittoria questa mattina alla presentazione della nuova maglia sentiamo allora proprio l'allenatore al Gherese ampio spazio al calcio a 5 alla Serie C2 quindi all'Audax al Gherese come sta andando questo inizio di campionato? questo inizio di campionato abbiamo iniziato in trasferta in me con due sconfitte con lo stesso punteggio di 8 a 4 oggi e stasera avremo l'esordio in campionato in casa contiamo di fare i punti per forza perché vogliamo raggiungere la salvezza il prima possibile in casa ovviamente quindi la prima partita quindi ovviamente l'obiettivo è quello di ottenere i primi punti però qual è l'obiettivo che vi siete dati di questo campionato di questa stagione? Noi andiamo a affrontare un campionato regionale dove le squadre da Loristanese in Giustino a Cagliari sono 20 anni avanti a noi perché noi il calcio a 5 lo usevamo fino all'anno scorso per fare la partita scappogli a mogliati e là invece hanno un settore giovanile sin dai bambini piccoli che fanno esclusivamente il calcio a 5 sappiamo che come tutti i progetti ci vuole tempo ci siamo dati tre anni di tempo e comunque va da quest'anno vogliamo migliorare in confronto all'anno scorso e lo faremo già con la nuova divisa a cui teniamo tanto quest'anno Esatto un progetto nuovo che inizia proprio con questa nuova maglia ce la racconti? La maglia è nata qualche mese fa e usiamo il colore giallorosso che sono i colori nostri della città di Alghero però abbiamo voluto promuovere la nostra storia di attaccamento alla Catalogna e dunque abbiamo messo sulla maglia la bandiera catalana dell'indipendenza che vorremmo promuovere noi in giro per la Sardegna perché ammiriamo il popolo catalano i nostri giallmanzi come noi usiamo a chiamare perché comunque vada non hanno usato né armi e né cioè hanno deciso di intraprendere questa strada questa idea dell'indipendenza con un referendum dunque in modo pacifico la stessa cosa faremo noi andando in campo giustamente e usando poi il terzo tempo che forse è il terzo tempo che piace più a tutte e due le squadre capito un grande gesto di solidarietà anche questo dunque l'appuntamento per questa sera a che ora? stasera giocheremo al Palacorbia alle 18.30 in via Pacinoti contro l'Amaroso Gonosno che è una squadra in provincia di Oristano e come è preannunciato ieri l'amatoria Alghero scenderà in campo quest'oggi alle 14.30 a Maria Pia per l'anticipo della stessa giornata di Serie B l'avversaria di turno il Cus Milano che ha gli stessi punti della formazione algherese 19 un successo garantirebbe una delle squadre il primo posto provvisorio intanto anche le giovanili saranno impegnate in vari appuntamenti domani l'Under 8 6 l'Under 10 12 e 14 giocheranno contro i rispettivi pari età dell'Olvia sul campo Tancaludos a partire dalle 10 l'Under 16 sarà in scena invece sul campo comunale di Elini in oro contro l'Accademia alle 11 così come l'Under 18 che affronterà sullo stesso campo il medesimo avversario ma a partire dalle 12 e 15 e ora vediamo anche tutti gli appuntamenti del fine settimana per quanto riguarda il basket a iniziare dalla Serie A2 femminile dove in programma la sesta giornata la Mercedes di scena a Roma sul parquet della San Raffaele due le lunghezze di differenza quattro punti conquistati dalle laziali grazie alla vittoria casalinga su Umbertide quella esterna della settimana scorsa contro Forlì due invece i punti della Mercedes frutto del successo della alla quarta giornata contro Orvieto le ragazze di coach Kao vogliono ripartire dalle note positive del match contro le Umbre ma anche di quello successivo contro Palermo purtroppo concluso con un K.O. ma con una buona prestazione in alcuni tratti così come è stata buona la prestazione la settimana scorsa della Coral che ha però ceduto i supplementari contro il Cus Sassari capulista del Gironi B della Serie D maschile domani alle 19 al Palacorbia la squadra di coach Granchi proverà a riscattarsi contro il CMB Porto Torres che guida la classifica proprio con il Cus e la Santa Croce Olbia e giocherà questa sera in trasferta Uzzieri Lagabetti pallacanestro Alghiero nell'anticipo della quarta giornata del campionato di promozione l'avversario all'80 basket Uzzieri che l'anno scorso ha partecipato alle Final Four mancando per un soffio la Serie D per il coach algherese Cardone unico indisponibile il pivot maliano Sissoko la cui situazione di tesseramento è ancora in stand by e con questa notizia si chiude questa edizione del nostro TG grazie a tutti come sempre per l'ascolto arrivederci